News. ...pronti a monitorare il territorio, funghi nel parco, tariffe e modalità di raccolta dei miceti, raduno Arley, numeri record per le moto giunte a raduno del Portofino Chapter provenienti dall'Italia e dall'estero. News. Naturalmente tutte le persone sono state allontanate, sono stati effettuati diversi per oltre mezz'ora tentativi di rianimazione, ma purtroppo l'uomo è deceduto tra 48 anni, si tratta di Bruno Antoniali, è un manovale d'Ile che attualmente risiedeva a Casarza, Ligure. Naturalmente la famiglia era stata avvertita, altrimenti non avremmo dato il nominativo, il fatto è tuttora in corso a San Bartolomeo. E ora passiamo al fine settimana, la cronaca come tutti i lunedì, che cosa è successo, in particolare Santa Margherita Ligure e dei soccorsi in Val Daveto. Vediamo. Nel fine settimana sono stati intensificati i servizi di controllo da parte della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure. I militari, anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, hanno denunciato un ragazzo lombardo di 23 anni, sorpreso a lanciare e danneggiare alcuni paletti della segnaletica stradale. Inoltre, una volta individuato e bloccato, ha fornito una falsa identità. Invece in Val Daveto, nella frazione di Santo Stefano di Amborzasco, un uomo di 74 anni si è ferito al volto mentre sparava un botto rudimentale. È stato trasferito con l'ausilio dell'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Un altro uomo, invece, è stato soccorso dopo essere caduto con la sua bicicletta a Giaiette nel comune di Borzonasca. Altri soccorsi per il servizio 118 e le pubbliche assistenze lungo la strada Aurelia, dove alcuni scuteristi si sono scontrati con un veicolo all'altezza di San Lorenzo della Costa, a lungo l'Aurelia, nel territorio di Santa Margherita Ligure. Noi ora parliamo di un lutto, un lutto che è avvenuto a Lavagna. Infatti si è spento ieri sera Pino Podestà, presidente del Sandoria Club Gianni De Paoli di Lavagna. È mancato all'età di 57 anni, era membro volontario in diverse associazioni, lascia la moglie Daniela, i figli Roberto e Francesca. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Noi prima di cambiare argomento ricordiamo che abbiamo aperto con la notizia di un 48enne che è deceduto per cause naturalmente mediche, non lo teniamo a specificare, quindi si è trattato molto probabilmente, visto che il corpo è ancora a San Bartolomeo, nel parcheggio a disposizione della magistratura, si sarà trattato quasi sicuramente di infarto di un ictus cerebrale. Detto questo noi ora cambiamo argomento, andiamo a Riva Trigoso dove questa mattina il sindaco e l'assessore Calabrò hanno presentato questo variante a un progetto di fronte mare, una variante molto importante perché anziché fare come era nel primo progetto una semplice passerella che però costava oltre un milione di euro, l'amministrazione comunale, la nuova amministrazione, ha ritenuto di fare una proposta molto più importante con un nuovo ponte che sostituisca quella attuale che è vecchio del 1938, poi con una pista ciclabile e anche una passerella pedonale che era tanto attesa dai rivani che gli piaceva appunto camminare lungo il fiume Petronio. Mercoledì sera ci sarà alle ore 21 al centro sociale via Caboto, un'assemblea pubblica per presentare il progetto. Vediamo come ci ha spiegato il sindaco. Un progetto nuovo per sistemare l'attuale ponte di Rivo, rifare addirittura sicurezza, ambiente e soprattutto avere una cittadina unita. Sì, mi sembra che oggi presentiamo un progetto davvero importante per Riva Trigoso ma per tutto il territorio. Abbiamo scelto di avviare una modifica al terzo lotto della riqualificazione del cantierino e invece che fare la passerella pedonale soltanto proponiamo un progetto più complesso che va a risolvere alcuni problemi fondamentali di Riva. Il rifacimento del ponte con un'unica arcata quindi migliorando la sicurezza idraulica di tutta la zona, rifacendo il ponte sull'antico sedime del ponte di Riva fino agli anni 30 e quindi dando una continuità da ponente a Levante come un unicum e poi realizzando accanto al ponte lato mare una passerella ciclo pedonale in acciaio e legno per collegare la nuova passeggiata riqualificata con quella di Riva Levante. Insomma ci sembra un investimento davvero importante che va a migliorare in modo significativo la sicurezza che è il tema che più di tutti mi sta a cuore ma anche l'estetica della passeggiata e l'estetica della frazione. Ecco il ponte, l'attuale ponte che era stato costruito nel 1938 dopo che nel 1937 era crollato. Volevo dire ormai è veramente, era in situazione un po' difficile con una pila centrale, non se ne usano quasi più di ponte, cioè sono venuti giù questi ponte. Sì ora non vorrei mettere allarmismo però sicuramente è un ponte che aveva diverse prescrizioni, ha diverse prescrizioni da parte dell'autorità di Bacino per cui è un ponte su cui prima o poi occorreva intervenire. Intervenire avendo a disposizione le risorse dei fondi FAS ci sembra il modo migliore per usare per l'interesse pubblico questo tipo di risorse. Per cui avvieremo rapidamente questo intervento lasciando in piedi il ponte attuale fino alla fine della realizzazione del nuovo ponte, questo è fondamentale anche per assicurare oltre che per la frazione continuità al lavoro di fincantieri. E poi appunto avvieremo questo nuovo ponte che davvero costituirà un miglioramento importante per Riva Trigoso. Lo ricordiamo poi ancora mercoledì sera ci sarà la presentazione ufficiale. Ora noi abbiamo una notizia di cronaca. Ladri nuovamente in azione a Sesti Levante. Questa volta nel weekend hanno saccheggiato il campeggio in località Trigoso. Nella notte tra sabato e domenica appunto malviventi sono introdotti all'interno di tre bungalow. Grazie a delle finestre che è lasciate aperte una volta dentro hanno rubato oggetti in oro e si sono impossessati alcuni oggetti abbastanza griffati, importanti. La montare comunque del bottino supera il 1600 euro. Il titolare del campeggio ha sporto denuncia ai carabinieri di Sesti Levante. Abbiamo ora da Santa Margherita Ligure il comune destinerà le forze dell'ordine due alloggi nella palazzina di nuova costruzione in via Dogali. Quindi più spazio a disposizione per i militari nella sede di via Cervetti Vignolo. Il cui ultimo piano attualmente è destinato ad ospitare il comandante di compagnia. Quindi ci sarà un presidio in più nelle due palazzine e questo dimostrazione di una sinergia tra amministrazione comunale e le forze dell'ordine. E noi parlando di forze dell'ordine ma comunque di territorio ora parleremo di protezione civile. Ne abbiamo parlato con l'ingegnere Giorgia Nebbia che racchiude i quattro comuni della Val Petronio. Vediamo il servizio. C'è stato un incontro importante, ci puoi spiegare di che cosa e perché soprattutto? Allora, venerdì abbiamo fatto una conferenza stampa con il sindaco, con i volontari antincendio boschivo e con l'associazione Adulti Rider con cui i quattro comuni sono convenzionati. Perché noi stiamo parlando di quattro comuni che si sono uniti sia nella lotta all'incendio boschivo che per quello che riguarda gli eventi di protezione civile. In questa presentazione è stata rimarcata l'importanza di questi volontari che tra l'altro si sono resi disponibili proprio per loro spontaneamente per poter effettuare dei monitoraggi sul territorio soprattutto quando le condizioni climatiche e soprattutto la situazione del vento è tale che esiste un alto pericolo di incendio attivandosi a seguito della richiesta del sindaco e soprattutto poi secondo le loro conoscenze e sensazioni che hanno maggiormente di noi. Qual è il ruolo del comune? Il ruolo del comune, in questo caso proprio di Sestri Levante, è il capofila di questa organizzazione quindi noi ci interessiamo di tutto quello che possono essere le necessità anche a livello burocratico oltre che fornire questo gruppo antincendio boschivo di tutti quelli che sono i dispositivi personali di sicurezza le attrezzature, la situazione dei mezzi che sono assegnati. Una sede logistica in caso di emergenza? In caso di emergenza loro hanno una loro sede, attualmente è a Casarza ed è presente ma soprattutto, e a questo punto parlo anche di un'altra emergenza che è quella idrogeologica allora viene attivato un centro operativo qua proprio nel comune Sestri Levante è avvenuto purtroppo è avvenuto purtroppo segnalo peraltro che questi volontari antincendio boschivo si sono resi anche disponibili per il monitoraggio quando c'è eventi alluvionali Abbiamo parlato di incendi e anche di piogge molto forti adesso cambiamo argomento perché poi parlando già di piogge nascono i funghi il parco aveto ha le nuove tariffe e ahimè sono tasse nuove vediamo il servizio Si avvicina la stagione dei funghi in attesa di questi prelibati futti di bosco il parco ricorda che la raccolta delle foreste demaniali sulle lame pennezzata è regolamentata e subordinata al possesso del tesserino che è in vendita presso le sedi del parco a Borzonasca e Rezzoaglio e presso gli esercizi pubblici convenzionati Ecco le tariffe per la raccolta funghi nelle foreste demaniali che sono state rideterminate in adeguamento alle tariffe praticate nei consorsi vicini Vediamo prima le tipologie del tesserino giornaliero, tariffa non residenti 10 euro, tariffa residenti 5 euro settimanale, tariffa non residenti 35 euro, residenti 15 In mensile la tariffa non residenti è di 100 euro, per i residenti 35 e quell'annuale la tariffa per i non residenti 150 euro, la tariffa per i residenti è 70 euro Tra le altre novità la raccolta è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica sia per i residenti nei comuni del parco che per i non residenti Ad ogni buon conto, ogni informazione è sul sito del parco www.parcoaveto.it E dal parco dei funghi andiamo a Riva Trigoso dove per due giorni ci sono state le Harley e un grande raduno, sono anni che vengono a Riva Trigoso per due giornate, tanto colore, un po' di rumore ma anche tanta gioia nel vedere persone che vengono da tutte le parti d'Italia e dall'estero Una grande manifestazione ancora una volta, Riva Trigoso, tantissime moto Sì, quest'anno abbiamo avuto penso un record di presenze e il tempo ci ha anche graziato perché le previsioni non erano buone invece siamo stati come al solito fortunati diciamo che il Portofino ha una sorta di aurea protettiva e quando c'è il Five Land non piove mai e siamo stati giustamente premiati Ecco, il chapter del Portofino è un club prestigioso? Abbastanza, sì, abbastanza, sono un chapter abbastanza numeroso siamo quasi 300 soci, tanti, quasi 60 hanno lavorato quest'anno attivamente ci hanno dato una mano a sostenere questa manifestazione sono stati bravissimi, senza di loro saremmo riusciti a fare tutto questo Ecco, da dove vengono alcune così? Non sono solo Liguri? No, abbiamo una parte di soci che sono di Pavia e una parte di soci che sono di Milano Ecco, poi ci sono anche molto straniere, è venuto un po' di tutti Sì, quasi, sì, no, io per la persona mi sono di Portofino comunque sì, in generale sono venuti i soci anche del Ticino Coast Chapter del Milano, del Monza, dal Firenze, dal Chianti sì, un po' da tutta Italia sono arrivati, sì Un raduno rumoroso ma molto bello, colorato Certo, come al solito, tutta gente tranquilla e fantastica, come tutti gli arleisti E riprendiamo la seconda parte del Tg parlando del premio Bindi, quindi siamo a Santa Margherita Ligure e la vincitrice è Cristina Nico con il brano Le creature degli abissi oltre alla targa Bindi consegnateli da Paolo Donadoni, il sindaco della città la vincitrice ha anche ricevuto la targa Afi che le è stata consegnata da Sandro Giacobbe che tra l'altro vediamo appunto nelle immagini E ora dalla musica di Bindi passiamo al concerto della banda sabato sera vediamo il servizio Grazie a tutti 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 i tanti periodici settimanali, mensili, locali o diciamo locali delle avversarie dell'Entella quindi se la squadra era piemontese, il giornale piemontese di Asti, di Cune eccetera tutto quanto che ci ha permesso credo di fare un lavoro, credo che per il momento sia quello più preciso che si poteva fare Voi siete specializzati nel raccontare la storia delle società del calcio, non solo la Vieto Santana, non solo la Lavagnese ma anche a livello nazionale proprio Sì lo facciamo, in Liguria oltre all'Entella e alla Lavagnese abbiamo già fatto anche il centenario dello Spezia e poi Catania, Parma, Verona, Brescia, Atalanta e tantissime altre, sono cento società la nostra soddisfazione è quella di applicare la ricerca storica al mondo dello sport e consegnare questo grande patrimonio sportivo che è quello dell'Italia, d'altra parte quattro mondiali al di là di quello di quest'anno che fanno appunto l'Italia una delle potenze mondiali calcistiche ricostruire campanile per campanile perché questa è la forza del calcio è una grandissima soddisfazione E noi quindi ricordiamo che la festa è stata spostata a causa del tempo a giovedì 21 alle ore 21, giovedì prossimo in Piazza Fenicia alle ore 21 Ora abbiamo una notizia di servizio perché l'ufficio postale di Sesti Levante che è il più grande della cittadina, resterà chiuso da mercoledì 9 fino a venerdì 11 per dei lavori di restyling, questo significa che, visto che l'ufficio di Sesti Levante è anche quello che poi tiene aperto fino a sera, quindi essendo chiuso questo in queste giornate si potrà andare a pila sul Gromolo per quanto riguarda Sesti Levante dove però l'apertura è dalle 8.20 alle 13.45 oppure a Lavagna in via Goito con un orario che va dalle 8.20 fino alle 19.05 quindi questo è il consiglio che hanno dato le poste in vista di questi lavori Ora siamo a Lavagna, mercoledì alle ore 10 presso il Comune di Lavagna ci sarà la consegna delle bandiere Blu 2014 ai gestori degli stabilimenti balneari di Lavagna e di Cavi seguirà alle ore 11.30 l'inaugurazione del nuovo ufficio informazioni turistiche nel locale adiacente al Palazzo Comunale con l'occasione l'amministrazione comunale presenterà il calendario degli eventi estivi e adesso abbiamo il Palio Remiero, naturalmente la cronaca e il servizio sono Di Gianrico Semorile, vediamo il servizio sul Palio Sport più tradizione, più folclore 31 agosto 1954, 13esimo Palio Marinario del Tiguglio, prima era 6 luglio 2014, 41esimo Palio Marinario del Tiguglio, nuova era questo è oggi qui a Cavi di Lavagna il Palio Marinario del Tiguglio una importante tappa remiera costellata di un insieme di eventi che la arricchiscono e, come avveniva già negli anni dei suoi maggiori fasti, la tramutano in una grossa festa un esempio di aggregazione fra gli appassionati, praticanti, cultori varie le definizioni allora scrivibili del Remo e tutti coloro i quali che, trovandosi a trascorrere il pomeriggio estivo qui sulla Renile Cavese, oppure intenti ad operare all'interno delle proprie attività commerciali di Caviborgo, come d'incanto vengono ammagliati da cotanto spettacolo Remiero e fondendosi con esso divengono parimenti protagonisti coinvolti tutti nello scorre ardimentoso dei gozzi sulle acque cavesi insieme protesi verso la conquista della vittoria tutti artefici di questo grande pomeriggio di giubilo ciò che la tradizione richiede, soltanto il Palio Marinario del Tiguglio è in grado di esaudire se la Lega Navale Italiana di Rapallo, con grande professionalità saputo ripetere il risultato tenuto a Zoagli, bissando quel successo e rinforzando la propria leadership, nelle acque di cavi di Lavagna ad assurgere la grande protagonista è stata la Lega Navale Italiana di Chiavari artefice di una straordinaria prestazione i ragazzi del presidente Umberto Verna infatti dapprima si sono tolti l'osfizio di conquistare la vittoria di batteria a spese proprio del Rapallo poi non ancora sazi, lottando strenuamente hanno preceduto al traguardo nella finale dei 22 Palmi di San Michele di Pagana salendo così sul secondo gradino del podio odierno e in classifica generale avvicinando ulteriormente proprio i bianco-verdi del Moltedo alle altre contendenti in questa prova a cavi di Lavagna null'altro che le posizioni di retrovia dunque vittoria di Rapallo che precede Chiavari, terzo San Michele di Pagana quarto Lavagna e quinto Zoagli all'appello manca sesto elevante, ritiratosi dopo la batteria causa infortunio di un atleta la classifica del 41esimo Palio Marinare del Tiguglio dopo due prove recita al comando Rapallo con 30 punti seguita da San Michele con 26, terzo Chiavari con 24 Lavagna con 18, Zoagli 14, sesto elevante 6 nelle prove sul Gozzo in Vettoresina vittorio del San Michele, equipaggio A nel femminile poi ancora Agostino Moltedo nello Juniors e Lega Navale Italiana di Rapallo nei Signores per quanto riguarda la prova categoria Master seconda formazione consecutiva della compagnia Remiera Lavagnese terza prova del Palio Marinare edizione 2014 domenica 20 luglio a Rapallo dopo il servizio di Semorile io vi lascio al meteo e vi ricordo che alle 20.15 ci sarà appunto la telecronaca per gli appassionati dei Remi e del Palio la cronaca della regata che si è svolta ieri quindi una buona serata a tutti TG di Guglio torna domani alle 12.45 benvenuti al meteo ecco le previsioni per domani martedì 8 luglio fino alle ore centrali nubi diffuse con piogge temporali anche forti attenuazione dei fenomeni e miglioramento nel pomeriggio che porterà al ritorno del suolo in serata almeno sul ponente della regione venti fino a moderati o a tratti forti di direzione variabile le temperature previste sulla costa 19 la minima 23 la massima nell'interno 14 la minima 22 la massima mare in aumento fino a molto mosso o agitato con mareggiate allevante l'interno 14 la massima